Bene, bene, ciao a tutti, ciao a tutti, vediamo, vediamo in questo video 10 potenti modi per sedurre una donna senza spendere soldi. Allora, questo vale per tutti gli uomini che buttano via soldi per spendere una donna regalando cene, viaggi, cazzi e mazzi, ricchi premi e cotion. Sedurre una donna non deve essere questione di denaro, ma di saperci fare, quindi vediamo 10 potenti modi. Il primo è la comunicazione, falle vivere delle emozioni, non costa niente far vivere delle emozioni. Secondo, galanteria, ma diciamo a costo zero, apri le porte, offri il tuo aiuto, che ne so, porta della borsa, ma non spendere soldi. Poi, umorismo, l'umorismo è fondamentale, è gratis, non costa niente. Donna che ride, mutanda che cala. Falle aprire, è il quarto punto, falle aprire, fai domande, qual è una cosa bella, una cosa brutta che ti è capitata, questo le dà emozioni, si infertizza. Fai dei complimenti, quinto punto, sinceri su dei suoi difetti, diciamo così. C'ha il naso grosso? Ah, che bel naso che hai, io sono un esperto, mi piace il naso egizio. Questo le crea confusione, male dà emozione. Sesto punto, sorprendila con delle attenzioni, prendi tempo per scoprire le cose che le piacciono e sorprendila con piccoli gesti di attenzioni, come un messaggio, una chiamata inaspettata. Non costa niente, però fa effetto. Settimo, crea un'atmosfera romantica, ad esempio una passeggiata al chiaro di luna, una passeggiata al tramonto, un tramonto sul mare. E' gratis e fa i suoi effetti. Punto 8. Condividi degli hobby. Cioè, falle vivere magari anche dei piccoli hobby che le possano dare emozioni. Mostrati maschio alfa, mostrati sicuro di te, mostra la sicurezza, devi avere fiducia in te stesso. Tra l'altro, più le dai, meno attenzioni avrai. Invece è lei che deve investire su di te. Questo è un punto fondamentale. E il decimo punto, non essere appiccicoso. Dimostra che se c'è o se non c'è, ti fa piacere se c'è, ma non è che per far questo tu investi. E' lei che deve investire su di te, per vederti, quindi deve dedicarti il suo tempo, le sue energie, perché solo se farai questo riuscirai a farli innamorare, veramente. Se invece dai soldi paghi, otterrai che se ne fotterà di te. Bene, 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 per questo video è tutto, mi raccomando. Iscriviti al canale e attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Mi raccomando e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonare se è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, che si trova vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi, se vuoi fare una piccola donazione al canale, puoi farla, basta che vai sotto il video e clicca sul tastino super grazie. Ciao a tutti.